La nostra guerra non è per la nostra fede. Combattiamo per cacciare tutte le potenze straniere dal nostro territorio. Noi siamo Alcatala. Siamo gli assassini. Combattiamo senza remore. Andiamo in guerra senza la minima pietà. È il solo modo in cui vivono e muoiono i veri soldati. Ecco 3-1 a capo Charlie 2. Mi ricevi? Capo. Zona di atterraggio in vista. I nostri sono in orario, colonnello. Ricevuto 3-1. Le squadre Hitman sono pronte all'assalto. Potete procedere. Colonnello, abbiamo un problema. Siamo operativi. È troppo tardi. Non finché lo dico io. Watcher a 3-1. Puoi ricevermi? Caposezione Laswell. In ascolto. Il generale Barkov ha inviato altro gas al suo deposito. I suoi mercenari lo trasferiranno in Orzikstan questa notte. Ci sarà più resistenza del previsto. Potrete ingaggiare, ma non aprite il fuoco. Niente incidenti internazionali. Non possiamo sapere se i russi faranno altrettanto. Ricevuto, Alex. Voi trovate il gas, prendete i camion di barco e andate via prima di cedare. Ricevuto, Watcher. Ci siamo. E qui fuori. Andiamo. Squadra Hitman, portarsi in posizione. Ricevuto, in movimento. Dobbiamo fare presto. Gli uomini di... Gli uomini di... Gli uomini di... Il nostro canale è gratuito www.mesmerism.info Il generale Barkov trasferiranno il gas a stanotte. Probabilità di trovare il generale Barkov? Dubito che si farà vedere da queste parti. Psst, attenzione! Sì, da l'errore! Io ho sentito! Ne sento due. Ottimo. Due mercenari, niente uniforme. Che cosa ti sento? Ora! Ehi! Chi è qui? Vieni, vieni! Bersagli validi. Fuoco. Via libera. Ricevuto. Appostarsi sul crinale e controllare la zona. Ecco 3-1 a Blue Viking 5. Attacco richiesto. Attendere conferma bersagli. Ricevuto 3-1. Viking in attesa. Perlustriamo l'area. Controlliamo che non ci siano militari russi. Movimenti alla ferrovia. Ecco come arriva il gas. Uno nella torre, in alto a sinistra. Non militare. Veicolo in movimento. Bersagli nel deposito di carico. Contatto. Ricevuto. Posto di blocco. È l'ingresso. Tutti bersagli validi. Mezzo di pattuglia, mercenari. Sicurezza. Bersagli validi. Nessuna presenza militare russa. Procedi, CIA. Blue Viking 5, qui Echo 3-1. Truppe in campo aperto. Cancello sud. Attacco autorizzato. Ricevuto 3-1. Bersaglio acquisito. Cinque secondi all'attacco. Cinque secondi. Ecco 3-1. Bersaglio colpito. Viking in rientro. Buona caccia. Grazie, Viking. Adesso facciamo da soli. 3-1. Spegni quella torcia. Attenzione. Nemici moltipli a piedi. Aspettate. Facciamoli avvicinare. Questi slusi. Naitite ieri e uvite. E non ci finirà ubiot nasi. Rassli datucitse. Se che uvidite, strigliate. Spaziamoli via. Libero. Avanzate. Qualcuno ha giocato con il fuoco? Così imparano ad armeggiare con quella roba. Diamo il colpo di grazia. Si che uvido. Si che uvido. Si che uvido. Gli atti? Si che uvido. Può la roba. mi atti? Ma dimissi va. Si che uvido. Si che uvido. Se buvo. Sanno della nostra presenza, ragazzi. Nervi salvi. Sanno della nostra presenza. 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 Usiamo le torce. con me. Sanno della nostra presenza. Beccato. 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 Sanno della nostra presenza. Beccato. 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 L'operazione è stata compartimentata. Ma che cosa cazzo vuol dire? Che non hai più autorità, colonnello. Quelli sono i miei marine. Lì serve una forza di intervento rapido. Questo non è consigliabile. Laswell, non sta a te decidere. Colonnello, Laswell. In generale, i miei uomini... Norris, dacci un minuto, ok? Sì, signora. Abbiamo un problema. Il Cremlino ha sospeso le comunicazioni diplomatiche, la sesta flotta avanza nel Mar Nero e le armi chimiche sono chissà dove. Stai lasciando dietro di te troppe tracce, Laswell. Rimedia. Generale, l'intelligence è la nostra arma migliore. Abbiamo già provato l'intelligence. Dammi qualcosa di meglio. John. Laswell. Dove sei? Al lavoro. Ho un problema. Russi? Le voci corrono. Le armi chimiche sono in mano ai terroristi. Non so dove siano Parigi e New York. Londra. Quando il briefing? Appena fatto. Sergente, rispondi. Qui, Gary. Massima allerta terroristica. Possibili assali sui multipli. Camicaggio, forse peggio. Abbiamo cecchini in posizione. No, negativo. Non deve scoppiare il panico. Terroristi sono d'accordo? Gary, non trasformare Londra in una zona di guerra. Chiaro? Sì, capito. Chiudo. Sembra che siamo da soli. Andrà bene. Diamoci da fare, ok? Ok. Sergente. Bianco, diversi uomini in età militare. Armi visibili. Intercettiamo. Ricevuto. In assenza di attacco, non ingaggiate. Fulgone bianco, sinistra. In assenza di attacco, non ingaggiate. 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 In assenza di attacco, non ingaggiate.